Ehi la ragazzi, salve a tutti, bentornati con questo nuovo video su CTR Sono dovuto impegnare per dire questa frase Siamo tornati su CTR con un nuovo aggiornamento Questo perché ieri in teoria è uscito appunto l'aggiornamento Che inseriva Spiro nel gioco E porca di quella vaga, eccolo qua Ma già tipo dall'inizio quando Crash prende il trofeo Appena cliccate per andare avanti si vede Spark Che sarebbe la livellula che parte di fianco E' bellissimo Cioè non l'hanno mai fatto una roba del genere Perché si glitcha sempre il nitro lì? Raga ci siamo Bellissimo Bellissimo Fatemi vedere se Spiro parla Perché in teoria parla Parla, parla Parla signori, parla Non so, il doppiaggio in teoria è quello E giustamente gli è andato la sua pista Bellissimo Ho visto anche delle gemme Che probabilmente sono le sue Oh, pure il drogato Ci sono tipo le gemme E sembra, sapete cosa? Quando hanno messo Link Su Mario Kart Che avete presente che la pista di Link Ha le rupee al posto che Le monete di Mario Ecco qua Hanno messo le gemme al posto delle mele Dei frutti Wumpa Bellissimo raga Bellissimo Non vedo l'oro Ok, però aspetta Questa è che hanno fatto Hanno messo quei personaggi Che si sono visti Che si sono visti lì Ovvero Ma aspetta Ma Non mi ha resettato il nitro? Cioè perché io sono a 16800 Che è quello dove ero la scorsa volta Ma il campionato si è resettato? C'è un bug Cioè io dovrei partire da zero Vabbè raga È online Direi di sfondarci subito E andare a vedere che cacchio hanno fatto Tra l'altro Io ragazzi vi ricordo che Per me oggi è l'uno Però tra due giorni Il 3 settembre Esce Spiro su Switch Finalmente Dopo più di un anno Che gira Qualche cacchio di roba Finalmente lo mettono anche su Switch Fatemi già vedere Se A questo punto Se ce l'ho già disponibile No Sbloccavile nel Gran Premio E C'è un problema C'è un problema Aspetta no O non mi hanno resettato i dati O non me l'hanno contato Non lo so C'è un bug di sicuro Guarda quello che c'è già Spiro nero Ma è bellissimo È bellissimo Appunto Il 3 settembre Esce Lo Spiro per Switch Quindi Aspettatevelo Arriva Il prima possibile Farò degli episodi Come quelli che abbiamo fatto Su Insane Trilogy Quindi Sarà una serie delle due Verrà ogni tanto Però lo porto subito Adesso raga Voglio subito Voglio Voglio subito Voglio Lo voglio È di fianco a me È bellissimo È bellissimo Vediamo Vediamo di portarcela a casa Io vi dico subito Che è da un po' Che non Prendo in mano CTR Perché Appunto Non ho più avuto tempo Ho fatto altre cose Difatti come avete visto Lì nel campionato Avevo Un sacco di nitro Ma perché Ci ho giocato Aiuto Aiuto Che sono finito Nella giungla selvaggia Mi hanno buttato Ci credo che ho perso Guarda 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 17.000 No ho già fatto Non è possibile Raga c'è qualcosa Che non quadra In teoria In teoria quando Non è finito Fatemi capire Il gran premio È finito o no Perché lì mi dice Mancano 29 giorni Quindi in teoria Se un gran premio Dura un mese Dovrebbe essere finito Il precedente Perché mi sta continuando La roba dei Non lo so Guardano Guardano lì Spironero Ma è bellissimo Guardano lì Hunter C'è C'è proprio Bellissimo E poi c'è Nastinork Nastinork Ma di chi è questo Aspetta Da dove cacchio Siano uscito Sto personaggio Perché io sono sicuro Nel 3 non c'è Nell'1 Non credo Nel 2 Cioè il 2 È lo spiro Che mi ricordo di meno Perché mi ricordo solo Che nel 2 Andavano prese delle Delle sfere Però è quello Che mi ricordo di meno Non vorrei che a sto punto Fosse di uno spiro Successivo al 3 Tipo quello lì Spiro Moon Moonlight No come cacchio Si chiamava Non lo so Poi nell'ispiro Per PS2 Ho iniziato a prendere I superpoteri Sparava gli elementi Ghiaccio Fuoco Elettro Poi lì non l'ho più seguito Volevo solo sapere Se era possibile Fare la pista Di cosa Di spiro Dato che sono qua apposta Cioè mi piacerebbe Almeno provarla Dov'è Crank Ma come fai a esserla giù Raga quello è uno bravo Quello riesce a tenere Il blue fire Fino a non so quanto Che in sta pista Non è neanche particolarmente difficile Il problema è che appunto Basta che ti schianti una volta Oppala Quanto Che cacchio è successo Le bombe Le bombe tirate a caso Anche nell'online Sono micidiali Perché con il lag che c'è Riesci Riesci minimo a beccarne uno Lo becchi Adesso ce lo prendiamo Ah raga è nostra È nostra Fidatevi dire È nostro È qui È qui Sì che è caduto Sì che è caduto Vieni qua Vieni qua No In questo momento Lui sarà in casa A godere come Come pino in questa Ma che cacchio Ma brutto Ma te ti fii contro di me Ce l'ha con me Ce l'ha eh Adesso mi si è risettato il robo Adesso mi si è risettato il robo Ma no Ma no Raga mi si sono risettati I punti nitro adesso A caso A casissimo Circuit di spi Mi fate fare Dai Votate Votate Fatemi fare quella pista Voglio vederla E che cacchio Cioè io sono venuto qua apposta Per vedere quella Quella pista lì E non me la metto neanche Oh Perché diavolo c'è uno squalo dentro Ma che Comunque raga Devo dire che Questo Questo gioco Questa specie di modalità È fatta un pelino male Nel senso che Quando uno sceglie Il circuito Poi ti dà ancora La possibilità di scegliere Il personaggio E questa cosa In Mario Kart Non c'era Per il semplice fatto Che quando uno sa Il percorso E lo conosce Riesce a cambiare il personaggio E prendere quello più adatto A quel percorso Nel senso che Se un percorso è fatto Pieno di curve Giustamente non vai a prendere Uno che è lento In accelerazione E ti curva male Vai a prenderne uno Che fa le curve bene E ha molta accelerazione Così se devi frenare Se devi schiantarti Da qualche parte Riparti subito E via Invece Se vedi che c'hai una pista Lunga Con poche curve Prendi uno che va più veloce Rispetto a uno che Ha più accelerazione O più curve Cioè Più derappate Comunque Diciamo che non è molto onesta Come cosa Per il fatto che In Mario Kart Te ti scegli un personaggio E lo usi Fregandotene Di quelle che poi saranno Le piste scelte Insomma Allora io sto cercando Di capire adesso Che cacchio di piste Ma Allora Lì c'è un taglio enorme Allora I fuochi d'artificio Mi sa che non vanno presi Le casse Sono dei 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 Bauli strani E va bene E un giro dura un bordello Raga Cioè un giro dura un sacco di Tempo Ci sta un bordello È un casino Non ci capisco niente Perché comunque Vabbè è la prima volta Che faccio sta cacchio di pista Quindi Devo un pochino Ambientarmi un attimo Con tutto Perché non ci capisco niente Eh sì No vabbè Ma prega No Andate pure con i missili Tranquilli Però senti la musica anche Raga la musica è bellissima E niente Vabbè Quarti Purtroppo la cosa Non la conosco per niente Ha molte curve però Cioè Più che altro Le curve che c'è Sono molto strette Quindi È difficile Tenere il turbo La musica era bellissima Cioè la musica Ci sta un bordello È quella di Spiro Per forza Allora voglio provare A vedere una cosa Andiamo nel pit stop Perché ci dovrebbe essere Hunter disponibile Ok Hunter disponibile E Tra l'altro costa 5.000 Io ce li ho le monete Ah io c'ho 16.900 monete Ah sì ce l'ho Quindi io Direi che possiamo Comprarci Hunter direttamente Anche perché appunto È disponibile Solo nel pit stop Cioè Ho scoperto che Molti Cioè Molte cose La maggior parte Delle cose Si sbloccano Comprandole e basta E più che altro Le cose sbloccabili Sono quelle Che ottenete Vincendo con i personaggi Cioè Particolarmente skin Nel tipo Vinci tot volte Con questo personaggio Vinci tot volte Con questo personaggio E sbloccate le skin Dei personaggi Però tutto il resto Sono robe Comprabili E basta Io adesso sto comprando Un po' Un po' Tutto perché Tanto C'ho i soldi Dietro Quindi Diciamo che Se non li uso qua Tanto poi non li uso Per niente Quindi rimango lì Però voglio provare Hunter Bellissimo Hunter Vedete Cioè per dire Vinci 25 gare Con Hunter E vi sblocca Quella skin lì Vinci 10 con Hunter E vi sblocca questa Una gara con Hunter E vi sblocca quella Tra l'altro Lo stavo guardando adesso Come mi hanno fatto Hunter Cioè è stranissimo Hunter è il personaggio Più stupido Nella serie Dei videogiochi Che io abbia mai incontrato Cioè mai visto Una persona più stupida Di lui Giuro E non vedo l'ora Di vederlo Come me l'hanno fatto Su Spiro 3 Vabbè Dino ce la portiamo A casa questa? No Sì Lo dico io Sì No un cacchio No Sono sempre Forza Hunter Mi raccomando Mi raccomando Partenza eccellente Hunter Per fortuna in sta pista Non servono Non serve molto La velocità Nel senso che Un personaggio che abbia Una buona sterzata Bella questa Il condingo Dalli partivo sempre Nei bordelli Qua serve un personaggio Con una buona derapata L'accelerazione Beh sì Bene o male serve È una pista Un po' del cacchio Cioè nel senso che Se non sei bravo A fare le curve Anche la CPU Fa fatico ad andare avanti Qua Rede la velocità Ma che rede veloci Hunter Ma che stai a dire? Oh ma ma si è drogato Si è drogato pure qua Ma non può separare Il secondo non c'è più Cioè il primo è arrivato alla fine Io sono arrivato alla fine Il secondo è morto LKR Dove è finito LKR? Mi ricordo ancora quella volta Che sono arrivato primo Ma non mi ha dato punto Cioè non mi ha dato niente E non c'era in classifica Cioè tipo Il mio personaggio Non è mai arrivato E tipo io ero lì Cosa è successo? Va bene raga Allora proviamo a farne un'ultima Nel circuito di Spiro Se riesce Perché io spero che No ma non votate Parco Cocco Ma Parco Cocco Fatevelo nella vostra avventura Porca di quella Ma andate Ok la prossima volta Me ne vado a giocare In single player Guarda guarda Lo puoi fierissimo Hunter È veramente fier Sembra strafatto Però nella PS1 Era molto più strafatto Cioè voi Immaginatevelo adesso Però 100 volte più strafatto Raga quant'è buggata La roba dei missili Comunque Cioè nel senso Il simbolino dei missili Ti fa capire Quanto bene o male È veloce Quanto è vicino un missile Vediamo se lo riesco a centrare Ma va là C'è la mira di un koala morto Sì vabbè Il rovo dei missili ti dice Quanto dovrebbe essere vicino da te Il missile Cioè più si avvicinano le freccette Più è vicino a te Quando le freccette sono lontane così Ti esplode il missile addosso Non si può fare con l'ag Ok Non si può fare Niente raga Non si è riuscito a vincere neanche una Se questi qua sceglievano magari La pista di Spiro Mi facevano un favore Grazie No Parco Cocco Ma porca di qua Io penso che per oggi Possiamo fermarci qua Mi dispiace non aver rifatto vedere Spiro Speravo di sbloccarlo Di averlo sbloccato in un qualche modo No Lo sbloccherò Anche perché è veramente Ma veramente Beh Cioè mi piace un macello Spiro Naturalmente Gareggiorò un po' Giusto per arrivare a sbloccarlo Tanto è nella prima categoria Poi nelle altre Non capisco che cacchi di personaggi sono Però vabbè Saranno delle skin E ragazzi Per il momento Posso salutarvi qua Noi ci vediamo prossimamente Con un nuovo video Sempre su CTR Qui dall'Adolf è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti